In diretta da Villammare con il TG Estate, inquadrata Francesca Pellegrino, ma ora la vedremo anche in questo servizio che ora vi proponiamo, perché vi mostriamo le immagini della serata conclusiva del Festival Gastronomico. Insomma, che poi sentirete, si doveva tenere una parte, poi sotto la pioggia tutto è stato trasferito da un'altra parte, un casino. Però la manifestazione si è tenuta e vediamo com'è andata. Al primo posto non c'è bisogno di indugiare, ancora con 666 voti. E' stato lo chef Anando Melileo di Villa Setarea Salerno, vecchia conoscenza del Golfo di Policastro, per le sue performance alla Cantinella di Villammare a vincere la seconda edizione del Festival Gastronomico, andato in scena l'8 e il 9 agosto a Policastro Bussentino. Il suo piatto, riso Carnaroli, mantecato al formaggio bufalino con crudo di gambero, lime e fragoline di bosco, è riuscita a spuntarla su quello realizzato dallo chef del Fannis Pub, Natalino Pascale, una sfogliatina calda al fico bianco con creme brulee ai frutti rossi e gelato al fico. Pascale, nel duello finale, ha dovuto arrendersi ad un onorabilissimo secondo posto decretato dall'esperta giuria. L'allegria della nostra Francesca Pellegrino, che ha condito la serata, non è mancata, anche se la tempesta estiva, battutasi anche su Policastro ieri, ha costretto gli ospiti della seconda serata del Festival, è un ridotto ma convinto pubblico, a riparare presso i locali dell'hotel Torre Oliva per lo svolgimento del concorso. Nessun problema, il Festival è proseguito con tutte le sue componenti, il balletto, la musica, le esibizioni, le imitazioni di Antonio Mezzancella, e ha regalato ai coraggiosi rimasti, nonostante tutto, un'ora di sano divertimento con le gag di Enzo e Sal, comici di Made in Sud, noti per il loro numero dell'incazzatore. Il successo del Festival era però già stato decretato la prima serata, quando un folto pubblico ha seguito in piazza lo spettacolo e i momenti gustosi proposti, che ritroveremo sicuramente nel corso dell'anno con gli sfiziosi siparietti di 105 con gusto. Ecco, passo qui subito vicino al mio amico, grande amico Natalino, è vostro amico ormai e voglio vicino a me l'altro grande collaboratore del Festival, Mario Riccardi. Buongiorno, buongiorno, felice di rincontrarvi tutti. Grazie a te, grazie a voi che siamo sempre di più e siamo sempre più uniti, questa è una cosa molto molto positiva che a me fa tanto tanto piacere. Ne parlavamo di più, come tutte le sane famiglie, i nuovi arrivati entrano a far parte di questa grande e bella famiglia unita ed è quello che sta succedendo a tutti quanti noi. Anche da fuori? Assolutamente, la cosa positiva è che chi è che viene da fuori resta affascinato da questi posti, resta affascinato dai nostri prodotti, dai nostri eccellenti prodotti e piano piano io immagino che questo possa poi essere il mezzo per poter trasferire a tutti questi nostri profumi cilentani che sono, a mio dire, non perché voglia essere di parte, alcune eccellenze italiane, alcune grandi eccellenze italiane. Comunque io dico l'importante è che se ne parli. E che si gusti anche. Sicuramente. Mario, intanto tu ho visto che già hai preparato i vini. Sì, con Natalino prima, mentre che stavamo aspettando le vostre chiacchiere, ho detto assaggiamo questo vino, l'avevamo già riscoperto al festival, lo stiamo ripresentando, questo Donnemi è un'azienda giovane, è venuta fuori a Vallo di Diano, grandissimo enologo, grandissima attenzione alla parte della proprietà nel produrre questo prodotto, è un aglianico in purezza, ma l'unica cosa, stiamo seguendo alcune cose, un piccolo percorso che abbiamo iniziato, abbiamo iniziato un bianco, abbiamo iniziato a far assaggiare un vino che possa essere abbinato ad alcuni prodotti insieme al pesce, cosa che abitualmente non si fa perché il pesce va bevuto in bianco, non è detto. Cioè nel momento in cui, dopo vedremo gli elementi che ci propone Natalino, abbiamo il fungo porcino, abbiamo il pomodoro, abbiamo l'arancia, vicino a questi piccoli prodotti facilmente può essere abbinato un rosso. Allora passiamo subito la palla al nostro chef, amico, vincitore. Natalino, non avevo dubbi. Grazie, innanzitutto voglio dire che per qualcuno che ci ha visto bere prima, non stavamo bevendo, ma stavamo verificando che si abbinasse bene al piatto il vino che aveva portato Mario, è giusto a scanso di equivoci. Poi ho notato che praticamente quando conduci sei spigliata, brillante. Quando ti intervistano ho notato una... No, divento un poco più professionale. No, no, ma poi mi emoziona parlare del festival perché con voi ci abbiamo lavorato tantissimo e io voglio darvi eppure a voi trasmettere queste grandi emozioni come cerco di trasmetterle a casa e far vedere che realmente siamo diventati un grande gruppo e una grande famiglia. Grazie. Allora, io voglio anche spiegare un attimino questo piatto col vino rosso. Benissimo. Come si dice qua, a gusto è capivirna, quindi siamo partiti con un discorso di patate, porcini, però senza lasciare il mare che ancora ci dà tante cose perché la temperatura ancora ce lo permette, quindi cozze, gamberi, calamari. Ok. I calamari sono ripieni di riso nero. Ah, come lo hai fatto? No, è una novità praticamente nel senso di generalmente il classico calamari imbottito con pane, eccetera, eccetera. Cambiamo un po' la versione, alleggeriamo anche un poco e gli diamo un tocco diverso. Va bene? E il risotto all'interno? Mi spieghi il durano. Il risotto cotto normalmente in fumetto di pesce e poi praticamente si usa per farcire il calamaro che viene poi praticamente scottato con il riso all'interno, quindi prende diciamo questo senso del pesce ancora di più. Bello. Bello e buono sicuramente. Lo accompagniamo praticamente con una zuppetta di porcini, patate novelle e cozze. Poi ci abbiniamo due gamberetti praticamente marinati in succo e buccia d'arancia, olio, sale, pepe, senz'altro e il tutto con un leggero pesto di rucola. Bellissimo questo. Dai, ci fai vedere come impiatti, se no arriva Antonietta e ci toglie la linea via e non ci fa vedere. Antonietta è pericoloso. Terribile, terribile, terribile. Intanto voglio salutare la nostra amica da casa Caterina, un bacio che ci sta seguendo, è sempre lì attenta. Brava Caterina, ti voglio bene, seguici sempre. Ci vediamo prestissimo. Un saluto da tutti quanti noi a Caterina. E a tutti quanti gli altri che ci seguono, naturalmente questo era un diretto. Sì. Io volevo poi aggiungere anche un'altra cosa, abbiamo lasciato un festival e ne iniziamo subito un'altra. Certo, certo, ricordiamolo, è importantissimo prossimamente il nostro film festival. A Villa Mare avremo Natalino il 28 sera, se ricordo bene, è vero Natalino? Non ricordo bene l'ha dato e ci sarà. Il 28 sera avremo Natalino, avremo l'ultima sera a chiudere Enzo Crivella, quindi il 28, il 29, il 30 e il 31. Vi aspettiamo tutti quanti qua a Villa Mare per il Villa Mare Film Festival e il dopo festival. Sicuramente come tutti gli anni un grandissimo successo, ringraziamo sempre il grande Alessandro Cocorullo che ci permette di veramente valorizzare queste cose del nostro paese. Grazie, grazie e saremo qua tutti quanti allora dal 28 al 31. dal 28 al 31 di agosto, tutti quanti qua in prima serata per avere lo spettacolo, prima dei film, dei cortometraggi che si avranno e a chiusura invece poter assaggiare i piatti di molti grandi chef della zona. Perfetto, noi ci saremo per assaggiare. Intanto guardate cosa ci sta combinando il nostro chef, ma non per caso ha vinto il secondo premio al festival, veramente giudicato da grandi, grandi esperti del settore gastronomico. Vero Natalino, la tua emozione? Ma è stata sicuramente una cosa molto bella, nonostante poi il tempo ci ha fatto trasferire altrove, ma la serata è riuscita altrettanto, forse anche meglio. Una location un poco più ristretta, poi eravamo lì, perché poi il Torroliva è il Torroliva. Sì, quindi alla fine praticamente la serata è andata benissimo, i giurati erano tutte persone diciamo che meritavano di essere giurati e quindi abbiamo anche apprezzato il risultato perché siamo stati poi giudicati da una giuria di qualità. Di grande qualità. Questo ha fatto anche in modo che noi dessimo il meglio, abbiamo fatto conoscere anche i nostri prodotti ai giurati che venivano da lontano, che magari non erano molto a conoscenza di tante cosine che si fanno qua da noi. Sicuramente grandi, voi siete stati grandi come lo stesso Gerardo Parente che è stato vicinissimo, Ciro Delia che è stato grande. Io vi devo ringraziare perché tra loro veramente c'è stata un'unione fantastica, hanno accettato gli chef che sono venuti da fuori e sono stati dei grandissimi maestri, io per questo vi devo ringraziare perché siete stati veramente bravi, avete dato una grande ospitalità a questi ragazzi e a questi giovani naturalmente che si trovavano un poco, è vero Mario, in un posto nuovo con prodotti tipici del nostro territorio ma che non conoscevano, vini eccellenti e eccezionali, vero? Vini eccellenti sì, la cosa anche importante l'hai appena detto prima. Ringraziamo? Sì, assolutamente, noi ringraziamo tutti, uno a uno, non li citiamo perché poi sarebbe troppo lunga la cosa, ma la cosa da prendere bene in considerazione è quello che hai appena detto, cioè il pensiero di avere gente che arriva fuori dal nostro basso cilento e leggere dopo il rammarico è nostalgia, nel momento in cui uno va via dalla casa tua e ti dice pronto sai mi manchi vuol dire che è stato bene, vuol dire che noi abbiamo lasciato un ricordo più che valido, sentirsi dire ho cambiato il menu, ho messo il gambero rosso del cilento vuol dire che fondamentalmente ha apprezzato il nostro gambero e ha detto forse gli altri gamberi per il momento hanno una valenza decisamente inferiore. Ancora adesso mi chiamano, senti mi serve il fico bianco, vuol dire che è un prodotto che serve, è un prodotto che è di grande qualità del nostro cilento e bisogna poi comunque trovare il metodo come farglielo avere. Sicuramente, benissimo Antonietta, io vedo che qua è quasi pronto. Posso? Certo. Come a scuola, signora maestra? Lasciamo stare la maestra al posto suo. Allora, dovevo dire che praticamente oltre che per noi, per voi, per i giurati, penso che è stata una manifestazione super importante per i paesi del Golfo di Policastro. Grazie, grazie. Grazie. Chi deve capire capisce. Antonietta, passiamo via. Ho capito una grande cosa, che non farò mai questo piatto. Andremo da Natalino a mangiarlo, ma come sempre. Oppure da Mario, è lo stesso che fa dei piatti ormai. Sono della serie che me ne mostri a fare le ricette, perché tanto io non le faccio. Ok, auguri a chi ha qualcosa da festeggiare e buona vacanza a chi l'ha appena iniziata. Salute a tutti. Io invece auguro un buon 24 agosto ad Atena Lucana con la rassegna che è questa serata all'insegna della storia e della leggenda. Intanto mi è arrivato un pizzino, qui arrivano i pizzini. Se non fai fatto tu, no, no, c'è scritto che Fortino in Festa è stata rinviata il 24 e 25 agosto a causa del maltempo. Poi leggo appeso lì che a Villa Mare il 22 agosto, su questo palco che stanno allestendoci, saranno alle 22 i Padià in concerto. Io vi lascio proprio con questo assaggio di quello che sarà la festa ad Atena Lucana, ma posso provare a farlo? Come si fa? Fammi capire un po'. Allora, proviamo. Mantieni un attimo il microfono. Vediamo un po'. Facciamo così. Potete continuare voi e ci vediamo domani grazie al sindaco di Atena Lucana che ci ha fatto compagnia. Sono stata brava? Sono stata brava. È stata bravissima, aspettiamo sabato ad Atena. Atena Lucana che ci ha fatto compagnia.